Sono anch'io d'accordo, come tutti sanno sono per il metodo tradizionale un po' novecentesco, un po' fuori moda, ma credo che sia molto di moda in tempi nei quali un conto è governare e quindi fare ad esempio Presidente del Consiglio, un altro conto è dirigere un partito. Sono due mestieri diversi che vorrei separati.